Maria Cassi in Crepapelle, Anna Meacci e Catabeni in Scoop, Ugo Di Ghero in Mistero Buffo del maestro Dario Fo e l'anteprima del nuovo spettacolo di Cristina Comencini con Angela Finocchiaro e Maria Melamonti, La Scena. Questi sono gli spettacoli di punta della nuova stagione teatrale del moderno di Agliana. Una stagione realizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo e l'amministrazione comunale. Il programma, oltre agli spettacoli in cartellone, prevede anche una serie di appuntamenti che vanno dalla formazione per ragazzi e adulti, alla danza, al teatro per bambini, senza contare la collaborazione con altre produzioni esterne alle quali il teatro moderno farà da residenza. Noi siamo felicissimi di aver realizzato questa stagione teatrale in totale condivisione con l'amministrazione comunale di Agliana e con l'associazione del teatro moderno. Ci piace molto questa stagione teatrale perché ci consente di ospitare alcuni spettacoli che attraverso il linguaggio della leggerezza riescono a farci pensare in maniera intelligente su davvero tante sfaccettature della nostra contemporaneità. Sì, un anno fa eravamo qua a parlare di rilanciare questo teatro che negli ultimi anni aveva avuto un po' di problemi. A distanza di un anno possiamo dire che abbiamo centrato l'obiettivo in pieno. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione teatrale col tutto esaurito, cosa che non succedeva da anni. Sono state fatte molte attività all'atere di quella teatrale, abbiamo avuto anche delle attività, delle serate a tema e il teatro moderno è diventato o ridiventato il centro culturale di questa città e questo è importante per tutta la collettività aglianese. Oltre alla presentazione del cartellone la conferenza stampa si è focalizzata sul rinnovamento della struttura tecnica che ha visto quest'estate effettuare lavori sull'impianto luci fornendo così di una nuova illuminazione a led il teatro che oltre a garantire qualità porterà alle casse un ottimo risparmio. A settembre, cioè da adesso, abbiamo ledizzato tutti i servizi, gran parte degli impianti interni e esterni al teatro sono a bassissimo consumo, un risparmio energetico molto elevato che ci permette di risparmiare risorse che investiremo in attività culturali e proposte alternative.